Allora, che cosa posso fare per lei? Lei, signor Kinn, è stato il criminologo che più si è avvicinato a scovare cane pazzo. Conosce la sua storia. Cane pazzo uccideva senza modi superanti, senza muoventi. Sceglieva le sue vittime senza una logica. Devi trovare cane pazzo. E perché io? Nessuno meglio di te conosce quel bastardo. Io da lei voglio l'umanità che sottende il racconto. Voglio scoprire l'intimità e la personalità della sua indagine. David aveva sviluppato una vera ossessione nei confronti di cane pazzo. Puoi disporre di tutto quello che vuoi, senza nessun limite. Dice sempre così, ma poi di limiti ce ne sono e come. Amina. Lo sai che è vero. Cane pazzo uccide a caso. Assolutamente no. Oh, ma io questo lo conosco. Si chiamava Michele Pisaro, detto il dottore. E questo vendeva l'arma a tutte le bande della città. Perché non ne ha mai parlato? Di questo David non c'è traccia nelle sue deposizioni. Non ci sono innocenti, ma solo colpevoli a varie gradazioni. Fare un figlio rende già colpevole, perché significa mettergli la morte alle costole e prima o poi se lo piglierà. È pazzo. Assolutamente no. Se fosse pazzo l'avremmo già preso. C'è dell'altro, io so cos'è. I rilievi della scientifica. E non è tutto. Sei stanco? Un po' di pazienza lo prenderai. Non parli di mio padre. E invece sì, perché la faccenda di Canepazzo riguarda anche lui. Sono sicuro che Canepazzo si è nascosto lì. E perché sei lecito? È come se rivedessi nella sua follia omicida un animale ferito che deve vendicarsi. Non ha senso questa storia. Per te no. Per lui sì. Canepazzo ha già preso le nostre vite. Sembra quasi che lo giustifichi adesso. Ma poi sei sicuro che lui sta qua dentro? E allora andiamo a guadagnare la gloria. Dopotutto Canepazzo era solo un volgare assassino, niente di più. Assassino sì. Volgare no. Lui uccideva... per amore. Forse sei la morte. Forse sei la morte.